ciao a tutti allora questo video è un esperimento perché vi spiego come stava andando la mia domenica perché oggi è domenica mi sono svegliata pensando devo registrare un video perché sennò poi sono indietro devo mettermi un po in pari eccetera eccetera e poi ho passato le successive tre ore sul divano a chiedermi e ora che video registro perché non aveva ispirazione nessun video che mi veniva in mente mi piaceva o mi dava proprio la voglia di mettere su tutto il set per registrare quando poi all'improvviso dal nulla è venuta questa idea che io spero vi piaccia ovvero di preparare dei bigliettini con all'interno e diciamo degli obblighi o comunque delle penitenze non so come vogliamo definirle per ogni step di makeup che dovrò fare ho messo insieme praticamente tutte le challenge che ci siano online di makeup tipo trucca fai questo step in un minuto oppure canta fai questo fai quell'altro quindi ci sono 10 dovrebbe essere 10 challenge diverse non so ancora neanche come chiamerò questo video per farvi capire dal titolo che cosa sto facendo e forse neanche lo capirete mentre lo sto facendo ma direi di partire subito perché secondo me ci divertiamo eccolo volevo fare un video divertente non avevo voglia di fare un video troppo serio troppo impostato scusa forse me li sono persi io ma quando mai hai fatto dei video serie soprattutto utili non lo so avevo proprio bisogno di una cosa semplice e divertente e quindi spero di essere riuscita a trovarla quindi io qua ho messo i miei bigliettini per ricominciare allora il primo step è il fondotinta vediamo un po ok devo ma perché tra tutti gli step proprio il fondotinta con le dita però poteva essere il blush qualsiasi altra cosa io ho di mettere il fondotinta con le dita ma no ma raga io sono proprio scema l'ho appena ributtato dentro spero sia questo invece lo devo mettere da parte ok si era questo quindi devo mettere il fondotinta con le dita io mi ero portata la spugnetta il pennello eccetera ma invece no usiamo ciò che madre natura ci ha dato ovvero queste belle mani ho già le mie wipes di fianco per poi pulirmele perché vi giuro che io odio questa cosa mi fa veramente senso non so perché è per questo per questo ragione mi fa un po' senso oltretutto non riesco neanche a tenere sullo specchio perché sono un genio il fondotinta che sto usando e mi sto spiattellando in faccia è l'authentic skin di zoeva nella tonalità 120 onestamente non l'ho mai messo con le dita quindi tra l'altro da notare che sto tenendo sul mignolino come se fossi una borghese non alessandro borghese non credo che sia venuto molto uniforme quindi ora controllo se l'ho messo in maniera uniforme beh sull'aso poi direi sicuramente però sto giro al posto di essere scemo usare entrambe le mani ne uso solo una così almeno riesco a tenere sullo specchio io lo so che vi starete chiedendo Gaia ma perché semplicemente non fai una recensione di un prodotto appena uscito vlog cioè robe no che siano effettivamente utili su questo canale ma invece no facciamo cose del tutto inutili improduttive e che fanno solo perdere tempo dai ok sono abbastanza soddisfatta tra l'altro non è neanche venuto male con le dita ora passiamo al correttore quindi prendo un altro foglietto allora ragazzi oggi mi voglio rovinare ecco a voi il nuovo Concealing Hydrate di Revolution che cos'è? è un correttore ad altissima coprenza dall'incredibile sfumabilità e per le prime 50 telefonate riceverete a casa non uno non due ma ben tre correttori Concealing Hydrate di Revolution e insieme anche il pennello per sfumarlo cosa state aspettando? telefonate, telefonate subito al numero sovrimpressione e oggi con solamente 150 euro vi portate a casa tre correttori Revolution e il pennello per sfumarli e mi raccomando affrettatevi perché l'offerta dura solo 24 ore sono credibile come televentitrice vero? sarà per tutte le marchette che fai passiamo alle sopracciglia solamente con la mano destra io sono mancina in realtà quindi per questo ho scritto mano destra ma se fossi stata destrorsa si dice? mi pare di sì ovviamente avrei detto mano sinistra allora vado ad usare innanzitutto il brow sop di West Banko quindi con la destra ho già sbagliato, sto già prendendo con la sinistra e mi sto rendendo conto in questo momento che non ho mai fatto questa cosa con la destra non ho mai fatto le sopracciglia con la destra mentre tipo il fondotinta o altre cose riesco anche a farle con la destra le sopracciglia non credo di aver mai provato praticamente sto condensando veramente tutte le challenge di makeup che ci siano online in un solo video poi uso il Their Brow Gel 01 di We Makeup con il pennello angolato di Astra tentiamo questa cosa perché ve lo giuro che non le ho mai fatte con la destra ho già sbagliato cioè quanto l'ho fatto alto questo? via bello devo dire vabbè dopo proverò ad aggiustare con un po' di correttore magari mi sono mai concentrata così tanto in vita mia per fare le sopracciglia sono tutte sbavate adesso la cosa più difficile è farla da questa parte cioè la sto tenendo come si impugna una bacchetta praticamente vincardine leviosa quanti di voi se ne erano accorti che sono mancina? ci avete mai fatto caso? io ci faccio un sacco caso quando qualcuno è mancino perché siamo pochi e quindi senti sempre un po' no raga non riesco a parlare e nel frattempo farmi le sopracciglia con la destra ve lo giuro multitasking what? non può avvenire meglio di così non avete idea di quanto voglio tornare alla mia mano sinistra non so neanche come mi devo mettere allora basta ho deciso che questo è sufficiente passiamo al bronzer mi sa che è il contrario so ragazzi i'm gonna speak in english now please don't judge me so i'm gonna take the Huda Beauty Tantor Tantor shade oh no my pants oh no ok they're safe Tantor shade light this one i'm gonna take this brush from Fenty Beauty this is the highlight brush number 120 I'm gonna use it to contour oh god I think I put too much put some more put some more oh god oh god what have I done I put too much ok now I'm gonna take this brush to blend this is one of Eric Chioba's brushes ok thank god it's blending out I think this brush was covered in blush because now I'm kind of pink and please don't judge my english because I'm really not confident in my english skills I understand everything but I never speak english so I'm not used to it ok so next step is blush e posso torna a parla italiano? ok in un minuto il blush ce la posso fare diamo il countdown adalè imposto un timer di un minuto e il blush che sto mettendo è quello di Pupa della collezione quella un po' primaverile che è super cute facciamo la solita cosa che sembra che sia andata a sciare quindi lasciamo la bella forma degli occhiali e mettiamo il blush su tutto il naso eccetera in realtà poi prendo il pennello con cui ho messo il correttore aggiustiamo un pochino in realtà io avrei già finito ma ho detto un minuto e un minuto sarà quindi continuiamo ad aggiungere finito ok illuminante dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio le brutte intenzioni la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera la tua ingratitudine la tua arroganza fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa grazie grazie ora passiamo all'ombretto senza specchio perfetto allora la palette che uso è quella di Fenty la numero 4 degli snap shadows che è quella rosa così a questo punto specchio vorrei poterla girare ma la romperei quindi meglio di no ma la copro lo specchio e vado a usare faccio un trucco semplice ragazzi ah il problema è che ho la abbassa anche lo schermo del computer e chiudo lo specchietto qua e ho anche chiuso il come si chiama ho anche chiuso una cosa che non mi viene in mente della videocamera ah lo schermo wow parolone comunque prendo questo colore qua che è un marrone direi e lo vado a mettere su tutta la palpebra anche qua ma non poteva capitare con un passaggio un po' più semplice perché era meglio io non so quanto ne devo aggiungere ancora vado avanti oltranza perché non mi sembra che la mia palpebra sia stata coperta ma tra l'altro raga ma in questo momento sto morendo di caldo cosa succede? secondo me ho messo abbastanza quindi posso procedere con l'altro occhio allora arrivata a questo punto penso che sia doveroso da parte mia provare a sfumare e poi vado a prendere questo colore qua che è il mio preferito di queste palette e lo vado a mettere qua il problema è che questo ombretto fa fall out e quindi forse la cosa migliore non è quella fare come sto facendo in questo momento ma bagnare un po' il pennello e metterlo così nella speranza che attacchi possibilmente possibilmente anche in maniera abbastanza equilibrata tra i due occhi io direi che va bene è sufficiente così comunque due ombretti li ho messi e ora posso vedere che casino ho fatto e dai allora a parte qua che non l'ho messo praticamente colore è fatto di peggio anche con lo specchio quindi posso riattivare qua ritirare su e passiamo al mascara per questo passaggio ho scelto l'unico ballo di tiktok che so fare che è su say so non so perché ho messo questo passaggio visto che non so come fare a ballare mentre mi metto il mascara ho tentato e ho fallito perché è letteralmente impossibile ballare mentre si mette il mascara quindi faccio il balletto e poi mi metto il mascara anche se forse sto un po' trassando ma in fondo l'ho inventata io questa challenge quindi il notaio è consentito fare così? beh ma certo boom questo ci ho messo ben 20 giorni a impararlo Renegade non ci sono ancora arrivata comunque il mascara che sto usando è quello che sto usando sempre in questo periodo ed è il Subliminal X Volume di Astra ed è una bomba ragazzi ve lo giuro è bellissimo ieri ho dimenticata che c'era anche l'eyeliner quindi lo vado a mettere dopo il mascara vediamo come bene ragazzi non ho mai fatto questo genere di video e sinceramente mi inquieta anche un po' penso che l'eyeliner sia lo step più silenzioso che ci possa essere direi perfetto ho finito quindi l'ultima cosa che rimane è il rossetto con tutte le labbra e l'ultimo bigliettino che rimane ma perché questo biglietto è scritto così male sembra un test di Rorschach comunque mi spiace deludervi ma non verrò mai manipolata e costretta a raccontarvi che prodotti sta usando e come li sta applicando è finalmente arrivato il momento di prendermi lo spazio che merito in questo canale e nessuno me lo porterà via comincio col dire che e voilà finalmente questo video è finito con una serie di imprevisti di cose che dovevano andare in un certo modo e non sono andate così ma nel complesso sono molto soddisfatta di questo video cioè non lo so secondo me è carino è un'idea divertente e soprattutto che si può fare in mille modi diversi quindi sono veramente contenta dai sono soprattutto sono contenta di aver registrato di non essermi chiusa sul divano a non fare niente e quindi se siete arrivati a questo punto del video commentate se siete mancini o destri perché mi è venuto in mente prima quando vi ho detto che ero mancina e niente noi ci vediamo al prossimo video peace out ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di basic gaia ma no ma raga io sono proprio scema l'ho appena ributtato dentro la sto tenendo come si impugna una bacchetta praticamente tanto e ho anche chiuso il come si chiama ciao a tutti Grazie a tutti.